L'emozione è indescrivibile, non si può dire quale realmente è l'emozione. So solo che io il giorno che mi devo vestire per andare a trovare Gesù Cristo, non ci so sulle mie, sono felici. Una gioia che proviamo tutti e quando ci vediamo è come se ci vedessimo la prima volta per tanto tempo, ma invece ha passato 81 anni, invece ci abbracciamo, ci piaciamo perché sappiamo che dobbiamo andare sotto la bara portando Gesù Cristo in pace. Grazie!